Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli In quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i Suoi letti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di Fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Un saluto affettuoso soprattutto alle persone ammalate, anziane o sole, che con costanza seguono il Signore dei giorni, appuntamento settimanale con la parola di Dio. Siamo quasi alla conclusione di questo anno liturgico e la trentatresima domenica del tempo ordinario. Per certi versi ci prepara alla celebrazione della solennità di Cristo Re domenica prossima. Sentiremo così parlare degli ultimi tempi, del momento in cui Cristo tornerà vittorioso e si compirà la beata speranza, la speranza della vita eterna per tutti i giusti che sono morti nella pace di Dio. I saggi, dice il profeta Daniele nella prima lettura, risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. E volesse il cielo di essere un giorno anche noi tra i giusti che risplenderanno come stelle al cospetto di Dio. Tra coloro c'è che hanno saputo accogliere la parola di Dio e metterla in pratica. Di essere anche noi tra quelli che hanno saputo leggere i segni dei tempi e che sapranno essere pronti nel momento in cui il figlio dell'uomo verrà sulle nubi con grande potenza e gloria. Gesù per aiutare i suoi discepoli a sostenere il momento imminente e difficile della croce, il momento che avrebbe indotto a pensare al fallimento della missione, ecco che parla delle cose future, della sua venuta ultima e gloriosa, quando manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Un linguaggio forse difficile, non pienamente comprensibile, misterioso, a tratti anche terribile, quello che Gesù utilizza nel Vangelo di questa Domenica. Ma egli non vuole incutere assolutamente paura, non vuole spaventare, vuole anzi anche oggi incoraggiarci ad accettare la via difficile della croce, perché grande è la gloria futura. Grande il premio che spetta ai suoi eletti, a coloro che non si perderanno nel turbamento delle sue parole e non si lasceranno imprigionare dalla curiosità di voler capire a tutti i costi quando sarà il momento o l'ora in cui tutto questo accadrà. Quanto a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il figlio, eccetto il padre. Preoccupiamoci allora, carissimi amici, di essere trovati degni in ogni momento di tutto il bene e il bello che il Signore ha preparato per noi sin dalla creazione del mondo. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Pace e bene e buona domenica a tutti. Grazie a tutti.